Salve, io sono Giuliano Zanella, maestro di bughi da vent'anni oltre. Ho frequentato già l'anno scorso qui al Circo Ancli di Lambrate un anno dove i miei allievi sono usciti ben preparati ad affrontare il mondo dei bughi bughi. Diciamo che i bughi, oltre che essere un ballo, è anche un modo per socializzare con altre persone. Parlando di me, oltre che essere maestro, faccio anche animazione e serate danzanti a base di bughi bughi. Io insegno da oltre vent'anni e vi potete trovare anche sul sito social network, facebook, come Giuliano Zanella oppure come A Amici del Bughi. Potete trovare le serate che io organizzo a San Giuliano Milanese come serata dedicata solo al bughi e anche con varietà di balle di gruppo e anche qualche issue. Gente che viene da me, si diverte tanto e soprattutto socializza, si crea sempre un buon gruppo. Oltre che parlare di me, voglio dire anche che quello che insegno io sono figure milanesi. Nel mondo dei bughi ci sono le figure milanesi e anche figure bergamasche, nordigiane, eccetera, eccetera. Con segni diversi e modi di esecuzione diversi. Quello che insegno io sono quelle milanesi, cioè quindi chi abita a Milano. Si troverà sicuramente aggregato ad altri gruppi di altre scuole che si compareranno sicuramente ai segni milanesi. Il corso di bughi inizierà a settembre, credo che si farà una data di prova il 22 settembre e poi inizieranno il corso il 29 settembre. Forse seguitemi sul social network di Facebook oppure qui a Circo Arci. Ah, Arli. E vi aspetto, vi aspetto ai benvolentieri. E siamo tutti pronti e carichi per iniziare un nuovo inverno danzante. Grazie. Grazie.